La casa, la casa di proprietà è da sempre un bene rifugio per gli italiani ed è anche il luogo della sicurezza della propria vita, il bene da lasciare in eredità ai figli. Guardiamo l'articolo Casa, cara casa. Per l'83% degli italiani l'abitazione di proprietà è il sogno più grande, ma è allarme costi. Muti sempre più cari, tassi al 4,72%, rate impossibili per 200.000 famiglie. Allora, l'abbiamo detto, un mutuo sempre più costoso, difficile per i giovani, difficile anche per le famiglie, tant'è che spesso molte rate non riescono neanche a pagarle. Allora, colleghiamoci subito con Giovanni Bardanzellu, presidente di Federproprietà. Buongiorno, grazie per essere qui, perché l'ultimo rapporto, Censys, dimostra proprio che la difficoltà da parte delle famiglie è di andare a pagare i mutui. Allora, intanto li chiedo, perché questo investimento, i noi italiani, lo riteniamo ancora così sicuro rispetto comunque all'Europa? Beh, diciamo che la proprietà della casa è un po' nel DNA di tutti gli italiani, è un fatto, diciamo, culturale che abbraccia tutti, anche le categorie più giovani del nostro paese. I motivi per cui quello che è il sogno della casa, che poi si è anche per la maggior parte concretizzato, perché non dimentichiamo che i tre quarti degli italiani sono proprietari di casa, diciamo così. Questo sogno effettivamente è stato sostenuto sempre dal fatto che la casa sia l'espressione, diciamo, della propria identità, della propria personalità, che sia stato un investimento sicuro, che soprattutto percentualmente rileva il fatto, e lo sottolineiamo nel rapporto che noi di Federproprietà abbiamo fatto con il Censys, la casa, la sicurezza e stabilità. Infatti vediamo proprio, anche mentre parla, vorrei far vedere anche con il rapporto che dice lei, il Censys, fede e proprietà, l'83,2% fattore di sicurezza e stabilità, il 78,4% di pressione di identità e personalità, il 69%, quindi 70%, investimento sicuro. Esatto, tutti e tre questi fattori hanno concorso, ripeto, a consolidare questo sogno che poi in gran parte, dicevo, si è tramutato in realtà. Oggi la situazione con questa forte congiuntura economica, l'inflazione, l'aumento, come diceva lei, dei tassi di interesse sui mutui, eccetera, sta creando una fragilizzazione di questo concetto della casa. Soprattutto per quanto riguarda la questione dell'investimento, non tanto sotto il profilo della sicurezza o dell'identità e personalità, che è rimasta abbastanza, diciamo, intatta, ma il problema dell'investimento, perché naturalmente oggi tutti questi imposti enormi che ci sono, che vanno ad aggiungersi all'imposizione fiscale, che insomma da tanti anni grava sulla casa, stanno un po' frenando la rincorsa di questo sogno. Io vorrei citare... Torno dalle, Presidente, perché tanto ci ha raggiunto Rosario Trefiletti, Presidente Centro Consumatore d'Italia. Grazie per essere qui, bentornato. Grazie dell'invito. Allora, Presidente, una cosa prima lo stavamo dicendo, perché comunque oltre 200.000 famiglie non arrivano a pagare proprio la rata del mutuo, allora le chiedo anche, intanto il rapporto Censis-Feder-Proprietà si intitola La Casa Nonostante Tutto. Allora, le chiedo, perché i mutui sono diventati così pesantissimi? Beh, sono diventati pesanti perché il costo del denaro è aumentato notevolmente, per le decisioni che sono state prese a livello internazionale e in Europa, che portano il fatto che i mutui, il costo del denaro è naturalmente relativamente ai mutui, c'è stato un aumento sostanzioso. Anzi, facciamo una cifra, nel mutuo medio sono aumentate le rate di 3.000 euro all'anno in più, ed è una cifra veramente considerevole. Ecco perché sono aumentati i mutui e noi ci auguriamo, perché il costo del denaro è aumentato, perché l'inflazione è aumentata. Ci auguriamo tutti che l'inflazione tenda a scendere, come sta tentando di scendere in questi ultimi mesi, per poter abbassare di nuovo il costo del denaro e recuperare i suoi mutui. Ma attenti, non c'è solo il mutuo a tasso variabile che ha avuto questo incremento notevole, e anche quello a tasso fisso ha avuto un aumento importante, per cui le giovani coppie che vogliono acquistare un appartamento attraverso un mutuo si troveranno a gravare proprio per questa questione. Ecco, il 19 dicembre il Ministro Salvini ha convocato la prima riunione, e quali sono a suo avviso proprio i piani che bisognerà attuare, calcolando che lei ha detto una cosa fondamentale. Noi cerchiamo, parliamo, spesso diciamo anche il fatto che dovremmo far più figli, ma una coppia se poi non riesce comunque ad acquistare casa, anche perché lei ha detto 3.000 euro all'anno, ma ricordiamo poi che è aumentata comunque la benzina, l'istruzione, c'è tutta una serie di cose, e non sono aumentati gli stipendi, quindi non ne abbiamo di più. Lei ha toccato perfettamente il punto, Massimiliano. Allora, il problema della casa, ad esempio, è una cosa che non si è detta, ma lo dobbiamo dire, non è solo quello dell'acquisto o dell'appitto, che sono aumentati e tendono ancora ad aumentare anche quest'anno. Non è solo il mutuo. C'è un problema anche dei costi di mantenimento di una casa, le bollette, il condominio, insomma ci sono diversi costi. Allora, bene che ci sia finalmente aperto un dibattito nel nostro paese, meno male che il Censi si è intervenuto molto bene su questa questione, perché in Italia, caro Massimiliano, hai 30-40 anni che non si parla più di piano casa, soprattutto di investimenti di edilizia residenziale popolare. Questa è effettivamente la grave crisi che pervade, e non solo, ci sono anche altri problemi, bisogna dirli. Nelle città metropolitane ci sono migliaia di appartamenti sfitti, che si tingono sfitti per poter aumentare, dato che si restringe l'offerta di mercato, gli affitti stesso. Quindi la famiglia, i giovani che vogliono mettere su famiglia, saranno da un lato colpiti dall'aumento dei mutui, ma dall'altro lato anche dall'aumento degli affitti. Ecco, allora, Presidente, voglio tornare da lei, perché proprio con quella... No, no, chiedo alla regia se ce la può rimandare. Ecco qui, guardate, la casa di proprietà è importante anche per i giovani, per 8 ragazzi su 10, 18-34 anni, è fonte di sicurezza e stabilità. Questo colpisce veramente perché noi pensiamo comunque il bene, la casa solamente per le persone di una certa età, invece soprattutto i giovani. Esatto, come dicevo prima, perché è proprio nel DNA della nostra popolazione, compresa la classe giovanile. Le vorrei dare due dati, uno su questo punto qui di cui stiamo parlando, e cioè che nel 2022, questi sono dati anche di Banca Italia, nel 2022, pur nella generale flessione dei contratti di mutuo che sono stati stipulati, il 38,6% sono mutui contratti da giovani di età dai 18 ai 34 anni. E questo è un dato positivo, lei citava il titolo del nostro rapporto, la casa nonostante tutto, ecco, nonostante tutto quello di cui stiamo parlando, la casa resta ancora una fonte di sicurezza e di stabilità, tanto che molti giovani, ripeto, quasi il 40% dei giovani, si stanno avvicinando all'accesso alla casa con i contratti di mutuo che, ripeto, hanno inciso fortemente questa età nel comparto dei mutui fatti nel 2022. Se mi permette, volevo dare un dato, riallacciandomi al discorso che aveva fatto il Presidente prima, un dato sui costi della casa. Lei consideri che tra il 2021 e il 2022, a fronte di un aumento generale dei prezzi dell'8,1%, i prezzi del comparto casa, ecco, come diceva prima il Presidente, abitazione, spese condominali, bollette, eccetera, sono aumentate del 35%. Nel primo trimestre del 2023, a fronte di un aumento dell'indice generale del 9%, sono aumentati del 24,7%. Nel secondo trimestre, il 7,5% incremento generale, 14,7% è la casa. Solo nel terzo trimestre del 2023 si sta scendendo un po' e, diciamo, il costo della casa si sta adeguando all'incremento dei prezzi generali. Allora, il nostro spazio a disposizione purtroppo è finito, però prometto veramente perché è un tema caldissimo questo. Assolutamente. Quindi, Trefiletti, le chiedo oggettivamente di tornare qui perché è veramente un tema che abbiamo tutti noi a cuore. Sempre con piacere. Soprattutto perché poi è un bene che noi genitori vogliamo lasciare ai figli. Anche questo nel nostro rapporto... L'avete visto, oltre il 50%, lo leggevo. Esattamente, esattamente. Grazie, grazie Presidente Giovanni Bardanzello, grazie per essere stato con noi, Presidente di Federproprietà e ringraziamo Rosario Trefiletti. Grazie a lei.